da quest'altra parte ci sono le fragole non sono molto grosse perché la siccità in pratica ne ha impedito la crescita queste sono quasi mature ma sono piccole come vedete accanto vedete ci sono i fiori questi matureranno più tardi ma speriamo che piova un po c'è senz'altro verranno decisamente più grosse ecco soprattutto più mature rispetto a queste io me le mangio comunque ottime vedete i tre stadi matura acerba la vedete ecco il fiore tre stadi di nascita e crescita buona giornata buone comunque